e vogliamo far capire i giovani di oggi cosa c'è di bella castellana lo stiamo male lei ha lavorato nella vita sua certo che cosa faceva ho fatto muratore ho fatto parete parte ho capito di mestiere abbiamo parlato tutti secondo te si viveva meglio prima oggi vivemmo prima no oggi oggi stiamo male come mai come mai siamo adesso occupati ma questo è un video promo di castellano anzi dobbiamo se tu che cosa tu per far venire le persone a castellano che cosa diresti che cosa c'è di bello ma adesso è più bello allora possiamo più amici dopo questo video mi sa che a castellano non viene più nessuno va bene grazie grazie